Naturalmente, oltre ai colmorani, ai gabbiani, alle caprette, quale altro incontro potevo fare? Guardate un po', ecco un'altra bestiolina che mi ha adottato, sono arrivato al campraio, si è cominciato a strucciarsi, eccolo qua. Ma guarda, non avevo portato, è stata una dimenticanza, le scatolette che normalmente porto con me. Comunque, gli animali mi stanno contornando, abbiamo visto le cape, abbiamo visto i gabbiani, abbiamo visto pochi pesci perché il mare mosso ce l'ha impedito, e comunque in compenso, ecco questa brava bestiolina, la micettina o il micettino, oh brava, meno male ho recuperato da questo amico una scatoletta di sement che chiaramente si mangerà tutta. Vieni, un bel primo piano, merita, se la fa tutta fuori, ciao, ciao, ciao.